Buongiorno, sono Ivana e io sono Nicole. Sono E-Metro e mi occupo dell'accoglienza e dell'accoglienza del cliente da un tempo arriva fino a quando non termina il suo passo. Mi occupo della discussione della sala e sono responsabile dei miei collaboratori. Inoltre, collaboro con lo chef per spettare il menù e la psicologia di servizio. e collaboro anche con il sommelier per l'abbinamento cipollino. Adesso la mia collega vi approfondirà di più la figura del sommelier. La mia figura è il sommelier e si occupa di gestire la cantina, in particolare tutti i vini e l'abbinamento cipollino. consiglia al cliente, lo guida nel suo pasto, nel vino e lo degusta cercando eventuali difetti per offrire al cliente il miglior vino e la miglior proposta di abbinamento cibo-vino. Lavoro anch'io sia con lo chef sia con il maître, in modo che così le pietanze possono essere ben abbinate in modo da dare un'esperienza al cliente per valorizzare le pietanze create in cucina e anche valorizzare il vino stesso. Abbiamo molto a cuore il cliente in modo da permettergli o permetterle di essere soddisfatto uscendo dal ristorante, non solo io come figura del sommelier ma sia lo staff di cucina sia lo staff di sala, compreso il maître.